Che idea ti sei fatta di quello che diceva D'Alema? Che ha ragione, da quando non conta più niente gli capita spesso di avere ragione. Se avesse proseguito il discorso avrebbe potuto dire che adesso molti di quelli che erano di sinistra, che sono di sinistra e che hanno votato 5 Stelle, si stanno guardando intorno per vedere se c'è un'offerta nuova. E quando è stato eletto Zingaretti hanno detto che Zingaretti non è Renzi, certamente è una persona un po' più normale, possiamo dire. Dopodiché però poi apriamo ossa Tesoriere Zanda. Prima proposta di Zanda aumentiamo un po' lo stipendio dei parlamentari perché con 14 mila Euro al mese nette faticano ad arrivare alla fine del mese. Portiamolo a 16 o a 19 come gli euro parlamentari e ripristiniamo pure il finanziamento pubblico ai partiti che gli italiani hanno abolito con un famoso referendum tradito più volte dalla politica. Allora uno vede quella roba lì e dice vabbè forse ho fatto una cazzata a votare 5 Stelle ma sai che cazzata è ritornare con quella roba lì? No, cioè capisci? È una gara al peggio. Grazie.